Anticipazioni Uomini e donne, la scelta di Niloufar non ci sarà? Ecco perché. Uomini e donne anticipazioni, Niloufar va via senza fare la scelta finale? Grandi colpi di scena potrebbero essere in arrivo virgola nel corso delle prossime puntate di Cancelletto Uomini e donne Trono Classico in onda su Canale 5. Le anticipazioni di queste ore rivelano che nella nuova registrazione del programma che gli spettatori avranno un modo di vedere in onda solo la prossima settimana su Canale 5, ci saranno delle novità importanti che riguardano in primis il percorso di Niloufar a dati. La scelta finale di Niloufar a Uomini e donne. La bella tronista napoletana, infatti, dovrà fare i conti con l'addio di uno dei suoi corteggiatori il quale non gradirà per niente il comportamento della tronista, la quale si lascerà andare in maniera alquanto esplicita con Nicolò. Tra i due, infatti, ci saranno dei nuovi baci intensi che mandranno su tutte le furie l'altro corteggiatore Giordano, che a quel punto prenderà una decisione clamorosa. Possiamo svelarvi, infatti, che il corteggiatore mosso dall'ira per la scena del bacio tra Niloufar e Nicolò, comunicherà la sua decisione di voler andare via dalla trasmissione di Maria De Filippi. Le anticipazioni ufficiali rivelano che Giordano senza pensarci sud troppe volte comunicherà la sua intenzione di abbandonare definitivamente lo studio e quindi di rinunciare a quella che sarà la scelta finale di Niloufar. Insomma il bacio di Niloufar e Nicolò non è piaciuto per niente a Giordano che ha confermato la sua decisione finale di abbandonare il programma anche sui social. In queste ore, infatti, abbiamo visto che Giordano ha confermato su Instagram, commentando un post di Luigi Mastroianni, che non sarà più presente in trasmissione nel corso delle prossime settimane e quindi ha comunicato ufficialmente la sua volontà di abbandonare il programma. Niloufar lascia il trono senza fare la scelta?. Insomma un addio ufficiale quello di Giordano che questa volta sembrerebbe proprio non voler tornare indietro sui suoi passi e quindi di conseguenza ha fatto in modo che il range di scelta per Niloufar si restringesse di molto. Ora, infatti, rimane in carica soltanto Nicolò, che tuttavia non sembrerebbe aver convinto più di tanto latronista, la quale potrebbe anche andar via senza fare alcuna scelta. Intanto Tina Cipollari si dice convinta e sicura del fatto che Niloufar sia eternamente indecisa solo perché in realtà sarebbe ancora presa da Lorenzo, che nel frattempo ha deciso di dichiararsi ufficialmente per la rivale Sara. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.